Quando si guardano i calendari poi ognuno pensa di una partita, volevo avere un'altra squadra piuttosto che un'altra. Effettivamente l'Unione Biceglie è l'unica squadra che era meglio evitarla perché loro storicamente sono una squadra solida perché portano avanti sempre un bel discorso di gruppo, società seria, società preparata, società che da anni fa questo campionato e anche bene e allo stesso tempo l'anno scorso hanno portato avanti un bel progetto sia tecnico che tattico che hanno messo su veramente la squadra. Però bisogna affrontarle tutte, l'Unione Biceglie forse era meglio affrontarla un pochettino più in là però ci tocca questa partita, cerchiamo di affrontarla nel miglior modo possibile. Adesso mettiamo da parte un po' le parole, le curiosità, le curiosità ripermangono perché quando si inizia un percorso si è curiosi perché fino a quando si fanno amichevoli forse va tutto bene, qualcosa non va male, ci si arrabbia però da domani contano i tre punti quindi siamo tutti curiosi, anche sottoscritto e curioso anche perché abbiamo investito tanto su questi ragazzi.